Vertenza Oshan. Interviene Milo Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. La regione è impegnata a salvaguardare i livelli occupazionali. Si è svolta presso la presidenza della giunta regionale a Bari la riunione della Task Force regionale per l'occupazione sulla situazione dei lavoratori degli ipermercati Conad Oshan. Si tratta di una vertenza nazionale in quanto i punti vendita interessati sono sparsi in tutte le regioni. In Puglia sono quattro gli ipermercati Oshan, Taranto, Casa Massima, Modugno e Mesagne, senza contare quanti ancora lavorano per esempio negli appalti tipo pulizie. Nel corso dell'incontro, prosegue Borracino, ho rimarcato alcuni aspetti fondamentali dell'avvertenza. Innanzitutto la mancanza di un indirizzo di politica industriale per capire quali saranno gli altri soggetti che rileveranno le strutture che non saranno gestite da Conad, come quello di Modugno che sarà ceduto ad altri soggetti, mentre gli altri tre ipermercati, Mesagne, Taranto e Casa Massima ridurranno mediamente dal 50 al 25 per cento la superficie di vendita e quindi occorrerà capire quali saranno le altre società che subentreranno per quelle superfici che si renderanno libere. A tal proposito ho fatto notare che in base al regolamento che abbiamo licenziato con l'osservatorio regionale del commercio sarà difficile avere nuove concessioni per nuovi ipermercati per evitare inflazionamenti. Ci auguriamo quindi che presto possano essere raggiunti degli accordi. Auspicchiamo e lavoreremo per quella che ho definito clausola 00, vale a dire zero esuberi e zero riduzione di ore lavorative e di stipendio per i dipendenti. Poi ho evidenziato che bisogna tener conto anche degli altri lavoratori, quelli dell'indotto, delle pulizie, delle manutenzioni e dei fornitori. Infine ho chiesto che tutte queste vicende siano discusse sul tavolo regionale della task force. Per questi motivi continueremo con le convocazioni delle riunioni della task force regionale per l'occupazione per seguire la vertenza dei quattro ipermercati Auschan pugliesi. E conclude così Borracino, ci stanno a cuore tutti i 766 lavoratori dei quattro ipermercati pugliesi.